Ma non vi preoccupate ragazzi, siamo tutti interi e non ci siamo feriti gravemente, non ci abbiamo qualche livido, siamo felici di essere sopravvissuti ma non abbiamo neanche un graffio. Io voglio vedere se Otacon sta bene e si può muovere. Otacon, stai bene? Otacon, ti puoi muovere? No, non riesco, siamo bloccato. Che cosa sarà successo a Liquid? Non lo so, ma spero che sia morto. Liquid è morto. Speriamo che sia morto, io voglio vederlo se è morto. Va bene. Ma è hip? E invece no, è ancora vivo, ma sempre vivo. Voglio vedere se muore. Eccoci, ora si cominciano i Fox Die. Il Fox Die ha funzionato, sta avendo effetto. Allora avevo ragione. Questa è la morte di Liquid Snake. Finalmente muore Liquid. Viene ucciso dal Fox Die. Finalmente è morto. Non se ne poteva più. Se è morto significa che... Se è morto significa che... Non ci pensare, Snake. Non ci devo pensare. Che è successo al bombardamento? Nessun bombardiere stealth è in vista. Il bombardamento è stato cancellato. Non ritornerà più. È morto. Grazie.